Guido Guidesi, il governo sul terzo decreto del Salva Roma chiede la fiducia, perché? Il governo chiede la fiducia perché non vuole discutere i nostri emendamenti, i nostri tentativi di correggere l'ennesimo tentativo di scempio da parte di questo governo e noi speriamo che vada a finire come i due precedenti, cioè che vada a finire nel nulla. Dico questo perché il Partito Democratico è un partito centralista ma è soprattutto il partito che tutela e salva i veri responsabili dei buchi di bilancio degli enti locali facendo questo dall'ennesimo schiaffo a tutti quegli amministratori locali virtuosi capaci che abbiamo sul territorio per cui il Partito Democratico ha deciso di salvare e dare una mano non ai sindaci virtuosi ma a quei sindaci che hanno creato deficit, buchi di bilancio che pagheremo tutti purtroppo.